Buongiorno a tutti. Buongiorno con noi, dunque ripartiamo dopo la pausa estiva con la rassegna stampa del TG Noi che vi terrà compagnia tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, in diretta alle 8.30, lo spazio per cominciare la giornata, per capire quali sono le principali notizie della provincia di Lucca, ma non solo. Anche in questa stagione televisiva però, buongiorno con noi, ospiterà ogni mattina anche un personaggio, qualcuno che rappresenta il nostro territorio. Oggi abbiamo voluto cominciare questa nuova stagione televisiva con una donna, con una giovane donna, vi presento Chiara Parenti, una scrittrice in ascesa. Buongiorno Chiara. Buongiorno, grazie. Grazie per aver accettato il nostro invito, alcuni di voi forse la conosceranno già perché ne abbiamo parlato anche nei nostri telegiornali, è una giovanissima scrittrice, lo avete visto, che sta spopolando su internet perché ha scritto un ebook pubblicato da Rizzoli che sta davvero vendendo molto in questa estate. Si chiama Tutta colpa del mare e c'è anche un sottotitolo e anche un po' di un mojito, vero Chiara? Sì, sottotitolo importante per la storia. Tra poco ci racconterai un po' come nasce questo romanzo, invoglierai molte persone che ci stanno guardando magari a leggerlo ed acquistarlo. Prima però voglio aprire lo spazio dedicato ovviamente alle notizie principali della giornata, allora come di consueto vi faccio vedere subito le prime due pagine della Nazione del Tirreno, i quotidiani della provincia di Lucca, qui siamo alla cronaca della Piana di Lucca. Ecco qua il titolo principale della Nazione prima pagina, pistola in faccia, rapina alla Conad, colpo all'ora di chiusura a San Filippo ma il direttore regisce, il bottino è di appena 2000 euro. La notizia che anche noi ieri sera abbiamo dato nel telegiornale, il fatto è venuto sabato sera proprio mentre Lucca stava festeggiando la Santa Croce con la processione e probabilmente questo malvivente è anche approfittato del fatto che le forze di polizia fossero impegnate nella processione di Santa Croce per garantire la sicurezza. Paura al supermercato Conad di Via di Tiglio, aperto fra l'altro da appena tre giorni, leggiamo sulla Nazione in questo articolo firmato da Saverio Bargagna, un bandito solitario è entrato in azione sabato sera all'ora di chiusura puntando una pistola contro il direttore e facendosi consegnare soldi di una cassa in tutto 2000 euro in contanti. Un fatto ovviamente che ha riportato alla luce, alla mente, ciò che era successo il 29 maggio scorso al Penny Market di Pontetetto quando un bandito in quel caso sparò anche ad una commessa ferendola gravemente. E poi un'altra notizia che ritroveremo più avanti all'interno della Nazione, alla Da Vinci la scuola parte senza palestra, tutti infuriati. Oggi è il primo giorno di scuola, ne abbiamo parlato ieri sera, ne parleremo oggi nei nostri telegiornali. Ecco, alla scuola media di Lucca, Da Vinci, c'è questo problema molto importante per i ragazzi. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Tirreno, insegue il bandito che gli punta la pistola, il direttore della Conad salva oltre 6.000 euro che erano contenute all'interno della cassaforte, infatti non ha aperto il forziere e ha costretto la fuga al malvivente. Gli volevo dare due schiaffi, così ha raccontato a Luca Tronchetti, cronista del Tirreno, il direttore della Conad, Giuseppe Ristori. La rapina conferma, appunto, nella ricostruzione anche il Tirreno, è avvenuta sabato sera, poco prima delle 20. All'interno c'erano due commesse, tre clienti e appunto il direttore. Troviamo più in basso un'altra notizia di cronaca, ottantenne cade in montagna, è grave, stava facendo un'escursione all'orto di donna, trasferito in elicottero all'ospedale di Cisanello, ricoverato per un trauma cranico e spinale causato da una caduta mentre in compagnia del figlio stava camminando lungo un sentiero a orto di donna nel comune di Minucciano. Si tratta di Damiano Monficalone, 80 anni, residente in provincia di Firenze. Queste le prime pagine dei quotidiani cartacei, allora vi faccio vedere però anche la prima pagina di Noi TV, del sito internet di Noi TV e in apertura trovate la processione di Santa Croce in forma integrale. L'abbiamo detto, lo saprete, abbiamo trasmesso sabato sera tutta la processione di Santa Croce, la potete rivedere anche su internet. Fra l'altro ad ora questa processione in forma integrale ha avuto in tutto il mondo, sul nostro sito, 1500 visualizzazioni che arrivano davvero da tutti i continenti. Il fatto che i lucchesi sparsi nel mondo non vogliono perdersi, nemmeno guardandola sul computer, questo momento, il momento più importante per la comunità di Lucca. Poi tra le altre notizie, appunto la magia della luminara, il servizio che abbiamo realizzato ieri per ricostruire ciò che è avvenuto sabato sera. Poi la giornata di fiere ieri a Lucca, il primo giorno di scuola, oggi per 50.000 studenti. Poi la rapina al supermercato che abbiamo già visto sulle pagine della Nazione e del Tirreno. Chiara Parenti, prima di parlare del tuo libro ti faccio una domanda sulla Santa Croce che poi, vabbè, non affronteremo più l'argomento. Poi nell'edizione delle 9.30 del Tg vedremo di nuovo un ampio servizio. Sei stata alla processione? No, non sono stata. Hai saltato? Sì, ho mancato. Però da scrittrice, ma insomma da lucchese che cosa ne pensi? Beh, senz'altro la festa, insomma una delle feste più belle della nostra città, io purtroppo come ti accennavo prima della diretta ho un marito che è un po' refrattario a queste, insomma, dove ci sono molte persone, per cui ecco, me l'ho mancata quest'anno. Adesso vi faccio vedere invece un altro sito internet, questo è un blog, tecnicamente, ma insomma è un sito, eccolo qua. Tutta colpa del mare e anche un po' di un mojito, un romanzo di Chiara Parenti, edito da Rizzoli nella collana You Feel. Da dove partiamo? Dal successo che hai avuto o da come nasce questo libro? Dai, allora, dal successo che hai avuto, decido io. Lo abbiamo detto nelle settimane scorse, ma ti stai confermando anche in questi giorni, libro che sta spopolando, così ho detto, su internet, in particolare sul principale portale per comprare ebook, ovvero Amazon, sta andando benissimo. Ti aspettavi questo successo? Assolutamente no, totalmente inaspettato, ecco, anche la reazione delle lettrici che, appunto, mi riempiono di complimenti, insomma, vorrebbero anche un seguito o un'edizione cartacea, e quindi ecco, no, assolutamente non mi aspettavo niente di tutto questo. Ovviamente siamo curiosi, io un po' la storia la so, però chi ci sta guardando magari se lo chiede. Di che cosa parla questo romanzo? Collana You Feel, e così svegliamo già qualche cosa, è la collana ideata da Rizzoli per questa estate, una collana femminile, possiamo definirla così, quindi rivolta alle donne. Femminile, digitale, quindi romanzi freschi, piuttosto brevi, che si leggono proprio sotto l'ombrellone, divisa in quattro mood, uno erotico, emozionante, romantico e ironico, a seconda dello stato d'animo. Il tuo è, romantico? Ironico. È ironico? Ironico, sì. Infatti forse il sottotitolo. Era il sottotitolo. In effetti già lo anticipa. Sì, niente, la storia è la storia di Maya Marini, una ragazza di 32 anni che apparentemente ha una vita perfetta, vive a Milano, fidanzata con uno dei rampolli, insomma, della città, lavorano in una delle agenzie più famose, di comunicazione più famose di Milano, e quindi la sua vita sembra andare a gonfie vele. In un'estate parte per, diciamo, insieme a tre amiche, per l'adio annubilato di una di queste, la sua migliore amica Diana, che poi sarebbe anche la sua futura cognata. L'adio annubilato avviene in Versilia, dove Maya ha passato tutte le estati della sua infanzia, fino a quella fatidica dei 17 anni, dove aveva conosciuto Marco, il suo primo grande amore. Quando arriva in Versilia, diciamo che i ricordi ritornano tutti a galla, e l'incontro, scontro casuale con Marco farà il resto. Noi svegliamo cosa farà, eh? No, però, diciamo, qualche mojito di troppo, in una sera, appunto, in questo folle addio annubilato, diciamo, scombinerà un po' le carte della sua vita, e quando lei si sveglierà la mattina dopo, non ricorderà più niente di questa folle serata, tranne il fatto che lei non lo sa, ma lo sanno tutti i suoi amici di Facebook, perché, diciamo, che durante la notte sono successe molte cose. E l'ha postata su Facebook? Sì, e quindi, ecco, quando tutto sembra perduto, quindi tutta la sua vita, la sua carriera sembra finita, in realtà Maya si renderà conto che forse quello che sembra alla fine di tutto, in realtà, è un nuovo inizio. E qui mi fermo. E qui ti fermo, perché giustamente anche noi vogliamo leggere il libro e capire come va. Come nasce questo libro? Maya, 32 anni, che va in Versilia, c'è un po' di autobiografia? Eh, un po', sì. Sì, sì, io sono, diciamo, la Versilia, anche io ho passato, come tutti, insomma, tutti lucchesi, ovviamente, la mia infanzia, quindi quando andavo al mare andavamo in Versilia, per cui sono molto legata a quella terra, e Maya lavoro in un'agenzia di comunicazione, quindi gravita in questo mondo del giornalismo, sono giornalista, per cui, insomma, ecco sì, dei riferimenti, ogni riferimento è puramente casuale, mi verrebbe da dire, ma non so quanto sarebbe credibile. Certo, quindi, insomma, ovviamente hai messo qualche cosa che è nel tuo bagaglio, no? È inevitabile, però quando si scrive un libro. Sì, sì, ovviamente, c'è una parte di te, comunque, bene o male, finisce nella scrittura, per cui sì. Il fatto di essere, spieghiamolo, no, per molti telespettatori che magari non conoscono bene questa realtà, un e-book, nel senso non è un libro che trovate e troverete in libreria, almeno per ora, ma dovete acquistarlo tramite internet, quindi uno va su Amazon, oppure su un altro portale, direttamente sul sito della Rizzoli, e può acquistare questo libro e leggerselo tramite un e-book, oppure anche sul computer, insomma. Umirider, sì, sì, o sul computer, o sulle diverse, sì. Devo dire che, almeno ecco, tra le persone che mi circondano, non è molto ancora, diciamo, ferrata questa idea di leggere in digitale, diciamo, perché tutti mi chiedono, ma allora lo trovo in libreria, il libro no, è in digitale. Per cui, sebbene si trovi facilmente in qualsiasi store online, diciamo che ancora forse il cartaceo mantiene la sua, insomma, un certo appeal per il pubblico, insomma. Certo, soprattutto per alcune generazioni, no? Per alcune generazioni, sì. Già un pochino siamo più abituati, ovviamente. Sì, noi siamo forse una via di mezzo, ecco, dicevo, anche i miei parenti, diciamo, invece preferirebbero la versione cartacea. Senti, per quanto riguarda il successo, poi andiamo in pubblicità, si è stata per un periodo anche proprio al primo posto, no? Sì. Nella sezione Romanzi Rosa su Amazon. Adesso, comunque, continua ad essere fra i top? Siamo in top 20. Top 20. Eh, insomma, è già un ottimo risultato, no? Perché in quella classifica ci sono tutti i romanzi possibili, no? Sì, 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 quindi sì, è una classifica poi lunghissima, non so neanche quanti, cioè, titoli potenzialmente conti, per cui, insomma, c'è una bella soddisfazione, non me l'aspettavo. Andiamo un attimo in pubblicità, poi torneremo ancora con Chiara Parenti, con le altre notizie che arrivano dalla provincia di Lucca, e poi daremo uno sguardo, ovviamente, anche alle notizie nazionali e mondiali. E fra poco. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie. Grazie.